Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV6 Ben trovati con questa nuova edizione di Mattino 6, la nostra rassegna stampa Vi dico fin da subito che sarà un lunedì carico di servizi, di immagini, di interviste Perché ieri è iniziata la stagione ufficiale con il primo turno di Team Cup Una sola abruzzese in campo che si è fatta valere L'Aquila ha battuto l'Arezzo per 2-0 Ma ieri sono state in campo anche le tre abruzzesi di Serie B Con il Pescara che ha perso 2-3 ma facendo un figurone contro il Sassuola All'Atletico Cornacchia Sconfitta di misura al Trofeo Maio per la Virtus Lanciano contro l'Avellino per 1-2 E poi vittoria per 2-0 del Teramo nella amichevole contro la Virtus Francavilla Quindi vedremo le immagini, vedremo le interviste Sarà una rassegna stampa pregna appunto di contenuti Quella che vi proporremo questa mattina Soprattutto nella seconda parte La prima dedicata alla cronaca e in parte anche allo sport Vedendo anche le pagine della Gazzetta dello Sport Prima però partiamo con le pagine nazionali In particolare quelle di alcuni quotidiani La Repubblica per iniziare La Repubblica titola così Scontro nel PD Renzi dicono al Vietnam Pronta a un'intesa con la minoranza Ma non se vogliono farmi cadere Poi la fotonotizia Netanyahu promessa a Shira Gli estremisti pagheranno Poi ancora sul fronte della politica interna Guidi, un piano Marshall per il Sud Al via 80 miliardi di investimenti E poi in basso Il Presidente della Repubblica Mattarella A Bologna Mai dimenticare sulla strage Troppi angoli bui E poi il personaggio Olandi Il guerriero francese Senza la Francia Questo per quanto riguarda la Repubblica Ora andiamo a vedere La prima pagina del giornale Ecco qui Napalm sul PD Renzi siamo al Vietnam La fronda promette guerriglia in aula Il partito esplode E Matteo sembra sempre più premier A sua insaputa E dalla parte opposta Berlusconi sente aria di crisi Il governo è impantanato Intervista poi all'ex ministro Gasparri Quelli che imitavano me per ridere Ora imitano la mia RAI Vituperata Il sindaco di Pietrasanta Versiglia in mano ai delinquenti Serve l'esercito sulle spiagge Il controcorrente del giornale L'arte è il nuovo affare della mafia Dopo droga e armi Il business si fa con i falsi E un milione di reperti rubati E poi Nobile e Giacobina Sangue blu Abito bianco e penna rossa Borromeo 50 sfumatore di Santorina Finiamo qui con la prima pagina del giornale Andiamo a vedere la prima pagina del fatto quotidiano Roma Ultima fermata Rifiuti, traffico, buche e salvaguardia del patrimonio artistico Grandi questioni Altrettante soluzioni Ma Marino saprà metterle in atto E poi fosse comuni L'orrore ha conquistato il Messico Tutto è in mano ai narcos E lo Stato ormai è soltanto un complice 35 anni da Bologna Le slide delle stragi di Stato Nonostante le premesse Siamo ancora all'omertà E poi sotto la testata dal Giappone Renzi rilancia per non cadere E USA Orfini contro la minoranza Attacco anche i sindaci Lavorate di più E poi da Torre Ormai questo PD è l'ufficio stampa di Matteo Ma che Vietnam Cambiate le riforme Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero Che apre così Ecco, avremmo voluto vedere Ma abbiamo questo piccolissimo contrattempo Ora stiamo recuperando la prima pagina del messaggero Statali e Sud Renzi accelera il Premier Giovedì ok alla riforma della pubblica amministrazione Sul mezzogiorno basta Piagnistei Piano per ripartire L'appello ai sindaci Rimboccarsi le maniche Le città diventino più presentabili e pulite Partito spaccato PD alta tensione con la minoranza In Senato spunta la norma anti-ribelli Tac, ricoveri e gravidanze Ecco come cambia la sanità Novità in ospedali e ambulatori Dopo la stretta da 2,3 miliardi E poi la linea dura del Viminale Droga e morte Sigiglia al Cocoricò Il Tempio delle Disco Chiuso per 4 mesi Il noto locale di Riccione Poi la fotonotizia con Edin Dzeko Nuovo colpo per l'attacco della Roma Dalle bombe alla Roma Viaggio nel mondo di Edin E poi ancora in basso La svolta di Israele Legge antiterrorismo anche per gli ebrei E poi c'è l'editoriale di Oscar Giannino Le due strade dei comuni Per ridurre le tasse locali E ora andiamo con i quotidiani di Casa Nostra Andando a vedere la prima pagina del centro Che aprirà così Addio ai buoni per i libri scolastici A Pescara stop ai fondi regionali 800 famiglie dovranno pagare Sotto la testata Fatti nazionali da oggi il bonus pensioni Conti, tassazione e rimborsi E poi lo scontro politico Che abbiamo già visto ampiamente trattato Dai quotidiani nazionali Renzi basta la mentele Sindaci lavorate di più Sul fronte meteo Ma più tardi ne sapremo di più Con il collegamento con il nostro Giovanni De Palma Prepariamoci ad Acheronte Sarà un agosto di fuoco Dopo aver vissuto già un luglio di fuoco E poi ancora la fotonotizia Il Pescara si inchina al Sassuolo Domenica il ritorno dell'ex Stroppa Sì perché ieri c'era la partita tra Matera e Sud Tirol Che dava l'avversaria al Pescara Per il secondo turno di Team Cup E il Sud Tirol ha vinto a Matera per 1-0 Quindi Stroppa tornerà all'Adriatico da avversario Alcuni richiami di cronaca Il mistero dei 7.000 euro I soldi gettati potrebbero finire agli operai Caos in tabaccheria Gridiscono i carabinieri arrestati E poi oltre 2.500 runners Corsa dei colori accende la riviera In basso il Buongiorno Abruzzo di Domenico Ranieri Passo dopo passo per censire la natura All'interno del centro i personaggi che fanno onore L'Abruzzo elege i suoi ambasciatori Mercoledì a Civitella l'investitura A Ginobili e Romito I riconoscimenti speciali per la promozione della regione La professoressa del Quebec Anna Maria Di Sciullo L'emigrato imprenditore Eligio Paris Il presidente di banca Francesco Liberati Il comandante degli Alpini Sergio Paolo Sciullo della Rocca Il cardiologo noto al mondo Osman Filippo Gialloreto E poi in basso il baritono del volo Gianluca Ginobili Lo chef pluristellato Nico Romito Questi gli ambasciatori dell'Abruzzo Andiamo avanti La pagina di Pescara Italia I servizi assistenziali cancellati I bonus libri scolastici 800 famiglie dovranno pagare La regione è in ritardo nello stanziamento dei fondi Per aiutare i genitori in difficoltà economica Salta la fornitura gratis dei testi I rimborsi avverranno a piedi lista Con la presentazione degli scontrini In basso la polemica sulla balneazione Il mare è sporco Subito i divieti Fiorilli attacca l'amministrazione Dopo le ultime analisi dell'Arta Berardino Fiorilli ex vice sindaco E poi ancora polemiche sul neo assessore comunale Laura Di Pietro Una nomina non condivisa I socialisti ad Alessandrini Mai più scelte arbitrarie per la giunta E poi ancora Il mistero dei soldi gettati Potrebbero finire agli operai Nessuno ha ancora reclamato Il denaro trovato venerdì In un mobile buttato via Agli spazzini onesti Ora per ora un encomio Fra un anno forse il tesoro riconsegnato E poi la cronaca Aggrediscono i carabinieri arrestati A Montesilvano due marocchini Hanno scatenato il caos in una tabaccheria E poi via Sospiri nel caos Tra l'erba incolta e la sosta selvaggia Proteste dei cittadini per la strada dei colli Dimenticata Il comune non fa i lavori E c'è anche un camion abbandonato Ecco la situazione dunque In via Sospiri Sospiri Situazione raccontata attraverso queste foto E poi come abbiamo visto La Corsa dei Colori La Vibe Color La Corsa dei Colori accende la riviera Con 2500 runners Mix di musica, sport e divertimento Per la manifestazione nata in California Stadio del Mare Trasformato in una discoteca Ecco qui che ci si diverte correndo E con i colori addosso Come possiamo vedere Attraverso queste foto Avanti ancora Sagra, Bagli e Notte Blu Per le sere di mezza estate A Montesilvano si apre una settimana Ricca di appuntamenti Con gli spettacoli Oggi la festa della parrocchia di San Giovanni Mercoledì la notte Dello shopping Anche a Montesilvano Dopo il successo Della medesima manifestazione A Pescara Venerdì sera Pagina di Chieti Madonna degli Angeli Atti vandalici Centri sociali danneggiati E svaliggiati Il consigliere comunale di Pasquale Incursioni continue di balordi Che vogliono far chiudere le strutture Per anziani Poi Camera di Commercio Il presidente Di Vincenzo Credo ai bilanci di Pescara Si continua dunque a parlare Per l'eventuale fusione Delle due Camere di Commercio Di Pescara e Chieti A Casalbordino Schianto con l'auto Grave un 38enne Si è scontrato con un altro veicolo E ha spezzato un albero La pagina dell'Aquila E la tragedia Che è avvenuta ad Avezzano I sogni spezzati di Stefano Che voleva coltivare la terra Il piccolo aveva conseguito La cintura gialla di Giudo E amava la vita in campagna Il cordoglio e il dolore Di familiari e vicini Niente parole Abbiamo solo le lacrime Ucciso dal trattore del padre Questo sfortunato bambino Da Castel del Monte Solidarietà Due Maroil Sottosegretario Rossi Alla cerimonia per ricordare i caduti Sempre a fianco di Girone E la torre La pagina di Teramo L'estate Sulla costa teramana Agosto col pienone Ma ricavi più bassi Gli albergatori Abbiamo il tutto esaurito Ma per essere competitivi Abbiamo dovuto abbassare i prezzi E poi Bagnini e defibrillatore al borsacchio Assistenza garantita Ai bagnanti Che affolano la spiaggia Della riserva Che si trova A nord di Roseto Degli Abruzzi Lasciamo il centro Andiamo ora con le pagine Del messaggero Abruzzo L'apertura è dedicata Alla tragedia di Avezzano Bimbo ucciso Lo strazio del padre Ad Avezzano Il racconto del genitore Che guidava il trattore Ho sentito un urlo E' stato orribile Sarà indagato per omicidio colposo Oggi in relazioni in procura Il mezzo è stato sequestrato Sotto la testata Pescara e Sassuolo Divertono a suon di gol Vincono i neroverdi di Di Francesco Il Delfino c'è Finisce 2 a 3 Amichevole anche per il Lanciano Beffato al trofeo Maio Dall'Avellino Per 1 a 2 Coppa Italia L'Aquila risorge Batte Varezzo E passa il turno Poi ancora l'Aquila Isa Spiragli per sopravvivere Dopo l'ultimo concerto di sabato Tagliacozzo Liriche teatro E il festival di Tagliacozzo Alle serate clou Pescara Carmen Consoli Slitta il concerto Vanzina Invece racconta Flaiano La nuova data Per il dannuncio È l'11 agosto I biglietti restano validi Stasera Laurum Il regista Parlerà del cinema Anni 60 E 70 Per la tv Comedy Central Due show A Giulianova Sui canali 124 e 125 Di Sky Gli spettacoli comici Con Migone Braida E Cassini La fotonotizia Dopo le slot Aggrediscono i carabinieri Tensione nella zona Degli alberghi E poi ancora Abusi sessuali Sui miei figli La procura Invece afferma È una calugna In basso Teramo Il manager Della ASL Fagnano Ammette Questi ospedali Stanno scoppiando Entriamo Anche Nelle pagine Del messaggero Abruzzo Gran Sasso Si tenta di salvare La stagione Il comune Fa dietro front Sulla manutenzione Della Seggiovia Fontari L'ultima parola Aspetta a Cialente Chiudere In attesa Del nuovo impianto O Prorogare Il direttore D'esercizio Cordeschi Dice Servono 100 mila euro Per un anno E poi Un parere Positivo In cambio di favori Per l'affitto Di un immobile Dirigente della provincia Indagato Con un Imprenditore Nella Marsica Abbiamo visto Già nel titolo D'apertura Bimbo ucciso Dalla fresa Il padre Non si dà pace Il racconto Di Maurizio Di Benedetto Ai carabinieri Non l'ho visto E non so perché Sia venuto a cercarmi Sequestrati i mezzi Oggi una prima relazione Al magistrato Che potrebbe nominare Un perito E inviare Un avviso Di garanzia La famiglia Segnata da un altro lutto Nel 2005 Lo zio del piccolo Morì Schiacciato Da un cancello A Pescara Ancora l'affair Legato alla fusione Delle Camere Di Commercio Pescara Conti in regola Ora avanti Con la fusione Di Vincenzo Frena Dopo i dubbi Dei consiglieri Chietini Ho accettato La presidenza Mettendo l'unione Come primo Obiettivo La verifica Dei bilanci Riguarderà Entrambiglienti Dura reazione Di via Conte di Ruvo Becci Minaccia Azioni legali Becci Presidente Della Camera Di Commercio Di Pescara Rogo alla Conad Angeli Del soccorso In comune Il grazie Del sindaco A vigili del fuoco E agenti di polizia Che hanno salvato Gli abitanti Del palazzo Poi come abbiamo visto Il concerto Di Carmen Consoli Che slitta A martedì 11 agosto Per la cronaca Ubriachi In sala slot Picchiano I carabinieri A Montesilvano Non volevano smettere Di giocare Allora di chiusura Pugni e bottigliate Contro i militari C'è anche un ferito Pagine di Chieti Di scariche abusive Il piano del comune Interventi previsti Su tutti i siti Inquinanti Entro tre mesi Presto al lavoro Nuove guardie ecologiche Specializzate E ancora Emergenza Una quindicina Alle aree contaminate Al via La bonifica Sulle sponde Del fiume Pescara E non solo Poi ancora Sanzioni fino a 3.000 euro Per chi abbandona L'immondizia L'elenco delle strade Assediate dai Rifiuti E poi La parola All'assessore Bevilacqua Che dichiara guerra Agli sporcaccioni Toleranza zero Più controlli In estate Multe Pesanti In basso Taglia la pianta Del vicino di casa Lo scopre E lo manda All'ospedale Anziano in pronto soccorso Con una ferita alla testa Giovane Denunciato Tutto questo È accaduto A Rocca Montepiano Dunque Sempre nel Chietino Andiamo a Teramo Gli ospedali scoppiano Serve un'unica struttura L'appello di Fagnano Avremmo dovuto chiudere I reparti L'assessore Comunale Romanelli Quando si accorpano Le specialistiche In estate Non abbiamo mai I medici In numero Sufficiente Andiamo sulla Costa Terramana Spiagge invasa Dalle alghe Turisti infuriati A Giulianova Un tappeto Putrescente Ha ricoperto Il bagnasciuga Il consorzio Balneare accusa Il gestore Dovrebbe pulire Due volte Al giorno Poi come abbiamo visto Già a riserva Del Borsacchio Via al Progetto Bagno Sicuro Ci fermiamo qui Con le pagine Di cronaca Abruzzesi Andiamo a vedere La prima pagina Della gazzetta Dello sport Poi approntiamo Il collegamento Telefonico Per il nostro Classico Break Meteo Dunque Apriamo L'ampia pagina Di sport Vi ricordo Ancora una volta Che nella Seconda parte Di mattino Sei Quindi dopo la pubblicità Vedremo Tante immagini E interviste Relative Alle partite Di ieri Le amichevoli Delle tre squadre Di serie B E la vittoria Nel primo turno Di team cup Dell'Aquila Sull'Arezzo Dunque ecco La prima pagina Della gazzetta Super calcio D'estate Inter E i gol Fiore Che gol Nemmeno Jovetic Basta Col Galatasaray Il quarto K.O. Senza reti Firmato Dall'ex Schneider Matteo Sammancini Ai sciacchieri Non prendi Perisic E poi Gli eurocampioni Del Barça Battuti Da una doppietta Del neo 10 Bernardeschi Che segna All'abbagio Buon secondo tempo Di Rossi E poi L'analisi Di Sebastiano Vernazza Sboccia La viola E un talento Se ne parla Da un paio D'anni Quel ragazzo Bernardeschi E molto forte Un brutto Infortunio Lo ha tolto Di mezzo Nella scorsa Stagione Qualcuno Lo ricorderà Due anni fa Invece Con La maglia Del crotone In B Dove Giocava Appunto In prestito Il Milan Di BNB Firmato Il patto Del diavolo Tejubol Vicepresidente Ibra Liberato Da Blanche In settimana Vede Lo Sceicco Berlusconi Avrà quasi 500 milioni E ora Assalto A Slatan Il commento Di Umberto Zapelloni Ripartire Con lo Straniero Parliamo Dei mondiali Di nuoto Magnini Esalta La 4% Che bronzo Tania Terza medaglia Altra giornata Azzurra I mondiali La cagnotto Bronzo Nel sincro Con Verzotto E poi L'atletica Tamberi Sempre più in alto 2.37 Ma Sognavo L'NBA Il saltatore Migliora Due volte Il record Italiano E ha grandi Progetti Iridati Poi La leggenda Di Biaggi Superbike Va sul podio A 44 anni 38 giorni Zanardi Show E triplete Mondiali Handbike Italia Da favola 9 ori Ad Hamburgo Fognini Cede Si arrabbia Con Nadal Non rompere Le scatole Poi in basso Si torna Al calcio Napoli In difeso Guerriglia Ultra KO 3 a 2 Nel test Di inizio Incidenti E sassi Prima della gara E poi Coppa Italia Record 15 a 0 Del Cittadella Al Potenza Cittadella Che sarà L'avversario Domenica prossima Nel secondo turno Di Team Cup Del Teramo Allo stadio Bononis Ma il Potenza Che evidentemente È andato A giocare a Cittadella Con le giovanissime leve Ancora più in basso Che dirà shock Rischia due mesi La Juve Alle prese Con l'infortunio Del centrocampista La Community Shield Super Arsenal Envenger Sfate Il tabù Mourinho Vittoria 1 a 0 Dell'Arsenal Appunto Nella Quella che è un po' La Supercoppa D'Inghilterra E poi L'inchiesta Atletica e Doping 800 casi sospetti Su 12.000 test Allora Andiamo a salutare E dare il buongiorno A Giovanni De Palma Di Abruzzo Meteo Buongiorno Giovanni Buongiorno Andrea Buongiorno a te E a tutti Te rispettacoli Le ultimissime Diciamo che La nostra penisola Interessata Al passaggio Di un'area Di instabilità Che in queste ultime ore Ha attraversato Anche la nostra regione Ha prodotto anche Delle precipitazioni Anche dei temporali Al momento Ancora in atto Soprattutto Nel Vastese È presente Nella numelosità Sulla nostra regione In mattinata Continuerà ancora Essere presente Sul settore centro orientale Ci sarà spazio localmente A residui A precipitazioni Poi Nel corso del pomeriggio Tenderà a migliorare La situazione Lungo la fascia orientale Nella nostra regione Sulle aree costiere Però Potranno formarsi Degli addensamenti Sulle zone interne Montuose Logalmente associate A dei temporali In esaurimento In serata È inottata La tendenza Andrea È verso Un ulteriore Miglioramento Delle posizioni Astronsferiche Perché torna L'anticiclone Nordafricano Che pian piano Comincerà a guadagnare Terreno Proprio Sul Mediterraneo Centro occidentale E a restendersi Poi Nel corso della settimana Anche sulla nostra Penisola Interessando In particolar modo Le regioni Centro settentrionali Quindi È previsto Un aumento Delle temperature Sulla nostra regione Tornerà Il caldo Piuttosto intenso Sulla nostra regione E tornerà A aumentare Anche l'afa Lungo La fascia Costiera Mentre Il meridione Insomma Avrà temperature Leggermente Più basse Rispetto A restanti Zone Centro Settenzionali Comunque Il gran caldo Interesserà Soprattutto Il nord Italia E questa Situazione Continuerà A destretale Almeno Fino alla fine Della settimana Poi Probabilmente Da domenica Quest'area Di alta Pressione Se la situazione Verrà confermata Inizierà A cedere Soprattutto In quota E ciò Potrebbe Un aumento Dell'instabilità Si tratta Tuttavia Andrea Di una tendenza Questa Da confermare Nel corso Dei prossimi giorni Senti Ho visto Un articolo In prima pagina Si parla Di un agosto Di fuoco È possibile Fare Una previsione Del genere Ad ampio raggio Secondo te Assolutamente No Andrea Non si possono Fare previsioni Al di là Dei 4 o 6 giorni Tenendo conto Di una situazione Generica Chi fa queste Previsioni Tra virgoletti Non le chiamo Previsioni Perché non è possibile Farle Sa che non si possono Fare Però le fanno Comunque Questa è una Cosa molto diffusa In Italia Non va bene Perché crea Molta Confusione Soprattutto Per il lettore Per gli utenti Che ovviamente Non sanno Che non si possono Fare Questi tipi di previsioni Quindi prendono Notizia per buona Quindi non va bene Così come non va bene Assegnare i nomi Alle perturbazioni Perché o alle figure Meteorologiche Perché potrebbero Tutto generare Non solo confusione Ma anche Cambiare la percezione Di quella che sarà O l'ondata di caldo O il peggioramento Quindi Arriva il caldo Non arriva Una figura Con un nome Ma arriva L'anticiclone Nordafricano È sempre lo stesso Poi ci porterà Il caldo E non cambierà nulla Rispetto alle restanti Avvenzioni africane Quindi Non lasciamoci Ingannare Da questi Dai nomi Perché insomma Sono sempre Le stesse figure Meteorologiche Insomma Non cambia Assolutamente nulla Farà caldo Ma non che Arriva Il finimondo Io sono contro Proprio Il fatto di assegnare I nomi A queste figure Perché poi Si crea Soltanto confusione Insomma Negli utenti Andrea Grazie Giovanni Ti auguro Una buona giornata Grazie Andrea Una buona giornata Anche a te E a tutti I telespettatori Di TV6 Grazie Grazie a Giovanni De Palma Possiamo proseguire Con la gazzetta Dello sport Vediamo Qualche pagina Intanto Pagina 2 Pagina 3 Galassi Gol non Eppure Ioio sveglia l'Inter Quarto K.O. Senza Segnare Una rete di Schneider Beffa Mancini A Istanbul Icardi Sbaglia molto Debutto Per Jovetic Poi L'intervista Esclusiva A Lothar Mateus Se hai già Shakiri Non prendi Perisic Sembra un messaggio Neanche tanto Verato Nei confronti Del tecnico Interista Mancini Il patto del diavolo È nato Il Milan All'Orientale B diventerà Vicepresidente Firmato il preliminare Per la cessione Del 48% Per 500 milioni A Tauchebol Un amministratore delegato Che si occuperà Dei mercati A est Il sogno Come vedete È Zlatan Ibrahimovic Via libera di Blanc E Zlatan Vede Al-Kelayfil Proprietario Del Paris Saint-Germain Sul fronte Juventus Il principino Al comando Io in regia Juve Abituata Ma c'è L'incubo Che dire Rischia Due mesi Barzagli Invece Ci prova In vista Della Supercoppa Andiamo a vedere Il fronte Del calcio estero Abbiamo visto in prima pagina Venger Sfate il tabù Mourinho L'Arsenal Batte il Chelsea Con un gol di Oxlade Chamberlain E fa sua La Community Shield 1-0 Nell'Arsenal Peraltro Milita Il fresco Ex-Cec Il portiere Ex-Celsea Appunto In basso Zeman Finalmente Primo successo Per il suo Lugano Dopo un inizio Tutt'altro Che entusiasmante Per la squadra Del presidente Angelo Renzetti Questa è la due pagine Dedicata Alla Team Cup Al primo turno L'Aquila c'è Tutto in 45 minuti Il 2-0 Sull'Arezzo Firmato da Claudio De Sousa E da Sanni E qui c'è il tabellone Che sfruttiamo Per vedere il prossimo Turno Vedete L'Aquila giocherà In casa Del Novara Domenica prossima Il Teramo Ospiterà Il Cittadella Al Bonolis Mentre l'Aviatico Cornacchia Il Pescara Ospiterà Il Sud Tirol Di Stroppa Dopo la vittoria 0-1 Della squadra Del Sud Tirol Appunto Sul campo Del Matera La Virtus Lanciano Andiamo dall'altra parte Del tabellone Invece affronterà La Juve Stabia Che si è sbarazzata Ieri 2-0 Del Melfi Quindi al Biondi Il match sarà Tra Virtus Lanciano E Juve Stabia Un match che torna a distanza Il triunfo del gruppo Del gruppo E poi Cagnotto 10-10 Lode Bronzo Nel singro Con Verzotto Addio ai mondiali Terza medaglia A Kazan La decima Della carriera Per la strepitosa Bolzanina Nella specialità Al debutto E allora Noi ci fermiamo Per questa prima parte Andiamo in pubblicità Poi come detto Nella seconda parte Oltre a tornare Ai quotidiani locali Nelle pagine sportive Vedremo tante immagini E interviste A tra poco Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Riprendiamo Con il Corriere dello Sport Andiamo a vedere Anche la prima pagina Del Corriere Mister B Porta Ibra Al Milan Storica firma In Sardegna Berlusconi Resta presidente Il tailandese Vice Ora Acquisti Lo svedese Romagnoli Sono vicini Sfida alla UE Per Witzel Poi La serie Guarda Oriente Da Toira Marketing e Tournée Viva L'Asia Sotto la testata Viola e Bernardeschi Impresa Barsa K.O. Zampata di Schneider L'Inter perde ancora Il Napoli Cade a Nizza In arrivo Il difensore Del Bologna Oikonomu In basso Sabato Alla Supercoppa Così Juve E Lazio Preparano il grande duello Arrivo imminente Con l'effetto Gecko Ecco come cambia La Roma Poi i mondiali di nuoto Bronzo La 4% Di Magnini E Tania Vince la terza medaglia Gli azzurri in coro Filippo È stato Fenomenale A pagina 2 La serie A Scopre L'Oriente Da togliere a Mr. B Sempre più Asia Nel nostro calcio Si apre un mercato Di centinaia di milioni Di nuovi tifosi E poi Lo sappiamo A Shanghai In Cina Si giocherà La gara di Supercoppa Tra Juventus E Lazio È in basso Visto dall'Asia Difesa Chiellini e Milan Che bello il vostro calcio La testimonianza di Chen Un 24enne Che è andato a vedere La Lazio a Shanghai Vi spiego perché La serie A Da noi piace da matti Amo i brasiliani Come Felipe Meglio seguire voi In TV Che il calcio Cinese Dal vivo Andiamo a vedere Le pagine Sulla Roma Con lo sbarco Di Gecko E la Roma Cambia Così Sabatino Tiene uno sconto Il bosniaco In arrivo Con lui Garzia Guadagna Tanto Ma vediamo anche Napoli E Fiorentina Economu Conto la rovescia Il regalo Per Sarri Il Napoli Stringe i tempi Per il difensore Del Bologna E intanto Napoli Spettacolo E distrazioni Caduta 3 a 2 A Nizza Per la squadra Di Maurizio Sarri E poi Ecco qui Bernardeschi Viola Da sogno Di mezza estate Con la doppietta Che valsa la vittoria Sulla squadra Campione D'Europa Il Barcellona Poi andiamo a chiudere Con le pagine Della serie B In particolare Vedete Qui si parla Di Galano Rilancio Il Pescara Che torna Sul Varese E in basso Si parla anche Del difensore Biancazzurro Urosh Ciosic Che domani Sarà operato E sarà fuori 45 giorni Ciosic Che si è Infortunato Nella amichevole Di Cingoli Contro la Maceratese Poi Su fronte Catania Catania gioca Ma pulvirenti E' contestato Ed è stata interrotta La gara Degli etnei Insomma Clima da polveriera In casa Catania Lasciamo anche Il Corriere Dello Sport Andiamo a vedere Le pagine Dello Sport Del centro Chiaramente Partiamo Dal Pescara Che ieri Ha fatto Un figurone All'Adiatico Cornacchia Contro Il Sassuolo Perdendo 3 a 2 Poche presenze Sugli Spalti Ma insomma Siamo pur sempre Ai primi Di agosto Allora Ecco qui La due pagine Dedicata a Pescara Sassuolo La prima in casa Il Pescara Dura un tempo Sorride L'ex Di Francesco Il Delfino Cede 3 a 2 Al Sassuolo Bene I primi 45 minuti Valotti E la Padula Ok E poi per il mercato Il club spinge Per Galano Pronto un triennale Entro 48 ore Vertice decisivo Con l'agente della punta Al Bari 500 mila euro E poi le dichiarazioni Del dopo gara Oddo Bravo Pescara Ora voglio un bomber L'allenatore Elogia la squadra E aspetta un centramanti Di peso dal mercato Ho visto grande voglia Ma servono un paio Di innesti Mitrita E un talento Mitrita autore Del gol del 2-3 Del Pescara E poi L'allenatore Del Sassuolo Il grande ex Eusebio Di Francesco Mi tengo stretto Falcinelli Stroncando un po' Le belleità Del Pescara Che ha in Falcinelli Uno degli obiettivi Principali Ma insomma Tramontato Calaio Sta tramontando Anche l'ipotesi Legata a Diego Falcinelli E domenica Il Sud Tirol Di Stroppa All'Adriatico Abbiamo visto Il Sud Tirol Ha vinto A Matera Per 1-0 Grazie a un gol Di Chirinova Al secondo Minuto di gioco E allora Andiamo a vedere Le immagini Della partita Tra Pescara E Sassuolo In particolare I gol Vedete Un stadio Praticamente Deserto Per questa Che comunque Era una gara Di lusso Per il Pescara Contro una compagine Ben attrezzata Di Serie A Che annoverava Tra gli altri In campo Il fresco Ex-Politano Oltre che L'ex In panchina Ovvero Eusebio Di Francesco Questo è il gol Del vantaggio Del Pescara Con l'azione Di sfondamento Di Zampano Sulla destra Passa tra due Gioratori del Sassuolo Mette in mezzo Un pallone Corretto In fondo al sacco Da Gianluca Lapadula Siamo al Tredicesimo Del primo tempo Un buon Pescara Nei primi 45 minuti Ma nel finale Il Sassuolo Rovescia la situazione Grazie a Sansone Che prima È abile A pescare Questo fallo Di Zuparic In area di rigore Sarà Lo stesso Sansone A trasformare Il calcio di rigore Che è stato Fischiato Dal direttore di gara Di Paolo Di Avezzano Siamo al 42esimo E al 44esimo C'è il gol Del raddoppio Del Sassuolo Proprio dell'ex Matteo Politano Che scatta Sul filo Del fuorigioco Tenuto in gioco Dall'ex compagno Di squadra Francesco Zampano E poi a Tu per tu Con Fiorillo Non perdona E quindi Il Sassuolo Rovescia Il risultato Ad inizio Ripresa Al secondo Minuto Ci sarà Il terzo gol Del Sassuolo Pescara sbaglia Il disimpegno Biondini Dalla sinistra Valcross Floro Flores Controlla il limite E poi Fasecco Fiorillo Con questo Fendente Che si insacca Alla destra Dell'estremo Difensore Del Pescara Pescara che comunque Reagisce Al 36esimo Della ripresa Troverà Il gol Del 2 a 3 Grazie a una Invenzione di Alexandru Mitrita Questo giovane Talento Rumeno Che vedete Va in serpentina Anche un brisolo Di fortuna E poi Un bel destro Che va a fulminare Il portiere Del Sassuolo Pegolo Che era entrato Al posto Del titolare Consigli Poi ci sarà Anche una ghiotta Opportunità Per il Pescara Per pareggiare L'avrà Ante Vukusic Anche per questa Leggerezza Della ripresa Del Sassuolo Ma La palla Finirà fuori Dunque Pescara-Sassuolo 2 a 3 Vediamo anche Il fischio Finale Di questa partita Comunque ci sono Applausi Dei circa 2.000 spettatori Presenti Sugli spatti Dell'Adriatico Cornacchia Vedete I giocatori del Pescara Salutano i tifosi Della curva Nord Marco Mazza E ora scendiamo Negli spogliatoi Per ascoltare Le impressioni Dei due tecnici Eusebio Di Francesco E Massimo Oddo Nonostante questa Era un amichevole Per Eusebio Di Francesco Ha sempre un sapore Particolare Tornare all'Adriatico A casa Ma è stato un piacere Magari I miei ex tifosi Non condivideranno Tanti i nostri Colori sociali Però noi siamo Una squadra Che gioca Per divertirsi Per fare calcio Penso che oggi Si sia vista Una bella partita Tra le due squadre Che si sono affrontate A viso aperto Eusebio Di Francesco Dalla panchina Del Sassuolo Che Pescara Ha visto questa sera Un buon Pescara E ovvio Specialmente nel primo tempo Noi siamo stati bravi Bravissimi In tante occasioni Nel palleggio E loro hanno sfruttato Al meglio Alcune nostre Disattenzioni difensive Però mi è piaciuta La predisposizione Del Pescara Devo dire In squadra Tanti giovani interessanti Qual è lo stato di forma In percentuale Del Sassuolo Oggi All'inizio di agosto Ma al di là Che mancavano due pedine Che abbiamo preso Adesso In questo momento Che dobbiamo portare In questa formazione Come Duncan De Freel Per quello Siamo ancora In costruzione Però la base Questa squadra Giacela Si è visto Si è visto anche stasera Sono contento È ovvio Che deve crescere La condizione fisica Dal mio punto di vista Devo rivedere la partita Ma assolutamente positivi Perché Abbiamo incontrato Una squadra Che l'anno scorso È arrivata decima In Serie A Ha giocato con tutti gli effettivi Noi no Ma al di là di quello Tutti quelli che sono scendere in campo Hanno sicuramente provato a fare Quello che Fino a questo momento Abbiamo tentato di fare Un allenamento E molte cose Sono riuscite Sicuramente Ci sono da migliorare Diverse cosine Ma questo fa parte del gioco Manca ancora Un po' di tempo Intanto la mentalità è quella giusta Il gioco palla a terra Si si No vabbè Quella è la nostra mentalità No Per quello che dico Che comunque la squadra Ha provato a fare Tutto quello che Che abbiamo provato Fino a questo momento E spesso Riuscendoci A volte commettendo qualche errore Dispiace aver preso Due Due gol così Sicuramente evitabilissimi Ma secondo me Dovuti anche un po' La mancanza di Di fozza nelle gambe In questo momento Perché abbiamo preso due gol Con l'uomo girato A spalle alla porta Ci può stare Oddo come ha visto La Padula E Vukusic No ma io ho visto Veramente tutti bene Anche Caprari Anche Sansovini Nel secondo tempo Ma tutti I giovani Tutti molto bene Sono Sono test Che incominciano A essere un po' Più attendibili Perché ovviamente Incontri Formazioni Di serie A Toste, forti Ma io credo Che abbiamo risposto Alla grande Al di là dei piccoli errori Che abbiamo commesso Ma secondo Oddo In questo momento Cosa manca al Pescara? Manca una punta Con caratteristiche diverse Ma il famoso mancino A piedi invertito Farebbe comodo Perché come stasera Avete potuto vedere Magari nei momenti Di difficoltà Dove cali un po' A livello fisico Che devi comprire Un po' più il campo E magari ti devi Mettere a 4 Centrocampo Purtroppo non hai L'alternativa Che possa fare L'esterno A destra Quindi bisogna stringere Per Galano Insomma Tradotto in soldoni Galano Uno simile per lui Oppure adatteremo Uno dei nostri A fare bene quel ruolo E ora vediamo La Virtus Lanciano Trofeo Maio All'Avellino Ma la Virtus Non sfigura I rossoneri Tengono sempre Il pallino del gioco E cedono Solo nel finale In rete Di Cecco Sulle maglie Il nuovo sponsor In opera Domenica Al Biondi In Coppa Italia Arriverà La Juve Stabia Mercato Al Lumicino Le speranze Di riportare Andrea Conti Dell'Atalanta E poi Le parole Del tecnico D'Aversa Dopo la partita Sono soddisfatto Della squadra Troest Cessione che pesa Andrà sostituito Nell'ultimo Fine settimana Magnus Troest Ha salutato La Virtus Lanciano Ed è approdato Al Novara Dell'ex tecnico Marco Baroni Che appunto Lo ha allenato Già A Lanciano Allora andiamo Anche in questo caso A vedere Le immagini Dei tre gol Della serata Del Biondi Del trofeo Maio Vedete qui anche Una buona rappresentanza Dei tifosi Irpini Il gol Dello 0-1 Segnato da Castaldo Al venticinquesimo Con l'evidente Complicità Anche di una Immobile difesa Della Virtus Poi il pari Della Virtus Lanciano Con Di Cecco Al termine di un'azione Corale Molto molto bella Quella Imbastita Dai ragazzi Di D'Aversa E solo nel finale Al quarantatresimo Trotta Con questo Gol Fa Si che Lavellino Si aggiudichi La partita E anche Il trofeo Maio E anche in questo caso Andiamo ad ascoltare Le parole Dei due allenatori D'Aversa E Tesser Ma considerando I valori in campi Devo dire che sono Abbastanza soddisfatto Della prestazione Dei ragazzi Perché comunque Di fronte Abbiamo un'ottima squadra E penso che La squadra Abbia ben figurato Nonostante anche se Poi il secondo tempo Era imbottita di giovani Quindi penso che Sia stata una Buona partita E' chiaro che In questo momento Come ho già detto L'altra volta Non conta il risultato Conta magari Il fatto di iniziare A creare una squadra E cercare di riportare In campo Quello che si proviene All'allenamento E devo dire che Sotto quell'aspetto Anche i nuovi Sono ben comportati Ma sulla lettura Del primo tempo Dove magari Abbiamo preparato La partita In base ad alcune Uscite Delle loro mezzali Cosa che non hanno fatto E magari una lettura Immediata subito Nel cercare Di ricapire Con quale altre soluzioni Diamo affrontare Però ripeto I giocatori Dell'anno scorso I ben umani I meccanismi Li conoscono a memoria Quelli nuovi E ben presto E troppo presto Per farsi di pretendere Che ogni volta Si faccia la scelta giusta Però ripeto Si sono ben comportati Quindi sono soddisfatto Della prestazione Un buon allenamento Un buon allenamento Un buon galoppo Per tutte le due le squadre Il campionato è ancora lontano Anche se siamo In prossimità Delle partite ufficiali Noi ci serviva A mettere sulle gambe Per chi ha giocato meno La settimana scorsa Quella spanola Ha giocato di più Un gruppo Oggi quell'altro Sono abbastanza soddisfatto Nella consapevolezza Parlo della mia squadra Che dobbiamo crescere Ancora molto Però ho visto delle cose Che volevo vedere Impegno La squadra Che tiene il campo bene Poi tutto il resto È solo come normale Che sia Da migliorare Queste le parole Dunque anche Di Attilio Tesser Che è il neo Allenatore Dell'Avellino Rastelli Ora allena il Cagliari Tesser Reduce Dalla salvezza Con la Ternana Allora il Teramo Ieri L'ultimo test Arrivì Sonduri Chiusa la prima parte Del ritiro In Terraquilana Ad Agostino Si conferma Il Teramo è in crescita Vittoria sudata Nell'ultima amichevole Di Rivi Sonduri Contro la Virtus Francavilla Per 2 a 0 Il sindaco Brucchi Presente Sugli spalti Dice Vicino alla società Vivarini Bene Ma la rosa Va allargata Domenica Al Bonolis Arriverà Il Cittadella In basso Estate di lavoro Ben risarcita Per gli avvocati Da Chiacchio A Grassani Passando per gli abruzzesi Parcelle care Per gli specialisti Del diritto sportivo Team Cup L'Aquila Batte l'Arezzo E la paura Rosso-Blu Al secondo turno Prossimo avversario Il Novara Con i gol di Testa Di De Sousa E Sanni Nel primo tempo Perrone Sulta Iniezione di fiducia Prova convincente Nonostante la spada Di Damocle Dei processi sportivi Corri degli ultra Contro l'ex responsabile Dell'area tecnica Ercole Di Nicola Qui ci sono le pagelle Spiccano i voti Di Sanni e De Sousa Per entrambi Voto 7 Sono stati proprio Due marcatori Della serata E poi ci sono anche Le parole Dell'ex tecnico Giovanni Pagliari Dal mio esonero Il tracollo Il tecnico ripercorre La sua esperienza In Rosso-Blu I dirigenti hanno sbagliato Potevo aprire Un ciclo Le abruzzesi Di Serie D Dosantos Voglio giocare a Chieti La trattativa Con il bomber Brasiliano Indirittura D'arrivo 21 gol Nel Testa L'Angelini In evidenza Il croato Tadic E poi L'Avezzano Che si coccole I portieri Preparazione specifica Con Cività Reale Per curare La tecnica Per quanto riguarda Il Giulianova Prosperi in difesa Tifosi a sostegno Della società Il mercato Della Miternina Che saluta Ranauro Santi Rocco Verso Pescara Il San Nicolò Biancazzurri A Castel del Monte Epifani contento Evidenti segnali Di crescita Vediamo anche Il basket Rossetto piace Lupusor Gloria a Trieste Chieti punta a diventare La sorpresa del campionato E stringe un accordo Con la Lazzaroni Come co-sponsor Della Proger Intanto L'ex teatino Adam Sollazzo È ancora Senza Contratto In basso Le parole Del grande ex Di Rossetto e Teramo Mario Boni Con Polonara E un'Italia da oro Agli europei L'highlander Del basket italiano A 360 gradi Seguo le abruzzesi Ma una promozione In A È poco Sempre per il basket Vasto team rivoluzionato E nuovi sponsor In arrivo La BCC conferma Soltanto 4 giocatori Della passata stagione Via la preparazione Il 25 agosto E si punta Ad almeno 500 abbonati Amatori Mancano ancora Due lunghi Per definire Il roster Tramontata L'ipotesi Giovanatto Mentre per conto Riguardo il Campli È un Campli In pole position Con Serroni E Petrazzuoli Giulianova Conferma Gallerini Ortona Prolunga il contratto Ad altri 4 Protagonisti Della promozione Lasciamo il centro Andiamo a Vedere Il messaggero Abruzzo Dobbiamo ancora Proporvi Le immagini Della amichevole Del Teramo E la vittoria Dell'Aquila In team cup Quindi cerchiamo Di accelerare Un pochino I tempi Allora Le pagine Del messaggero Abruzzo Buon Pescara Nel deserto All'Adriatico Vince il Sassuolo 2 a 3 Ma i biancazzurri Non sfigurano La Padula E Mitrita I marcatori Del Delfino Solo 2000 Spettatori Sugli spalti Colpa Dei prezzi alti E domenica È già Coppa Italia Con il Sud Tirol Di Stroppa Gli emiliani Fanno pesare La differenza Di categoria Eppure I ragazzi di casa Tengono la loro Tengono la loro testa Per lunghi tratti Di gara Vukusic Come abbiamo visto Sfiora Il pari Le parole di Oddo Un grande gruppo Mancano due acquisti Il tecnico soddisfatto Della prova dei suoi Buone risposte Di Francesco Fa i complimenti E l'Oda Mitrita In attacco La sorpresa Può essere Mancosu L'ex giocatore Del Trapani È ora Al Bologna Allora Sul fronte Teramo Si torna a parlare Dell'inchiesta Con Le parole Che vengono fuori Dalle audizioni Dei tesserati Del Savona Teramo Che strani Quei gol Le accuse Della procura Nel verbale E le risposte Dei difensori Del Savona Non sono esclusi Nuovi elementi Per il processo In arrivo Dalla DDA Di Catanzaro Intanto Sul fronte Del calcio Giocato Con la Virtus Francavilla Ieri amichevole Firmata D'Agostino E Petrelle Allora Andiamo a vedere Proprio le immagini Dei due gol Teramo molto imballato Specie nel primo tempo Ma anche nella squadra Che ha giocato Nel secondo tempo Che ha fatto lievemente meglio Al ventesimo Del secondo tempo Grazie solo a questo errore Del portiere Dei brindisini Giurlo Arriva il gol Del 1 a 0 Siglato Da D'Agostino E poi al trentaseiesimo Al termine di una buona azione corale Arriverà il raddoppio Amadio Bartolomei Poi Scipioni Che affonda Il suo cross Conclusione sporca Di D'Agostino E poi sottoporta La correzione Di Petrella Per il 2 a 0 Come abbiamo detto Ieri era presente Sugli spalti Anche il sindaco Maurizio Brucchi Era presente Anche il presidente Campitelli Che però ha preferito Non parlare Noi abbiamo raccolto Le dichiarazioni Del tecnico Bivarini Un bilancio Circa la chiusura Di questa prima parte Del ritiro Quella che si è svolta A Rivisondoli E la squadra Domani riprenderà Gli allenamenti A Teramo Dopo questo lunedì Di riposo Quindi Vivarini E poi le parole Del sindaco Brucchi Bivarini Finisce la prima parte Del ritiro A Rivisondoli Il primo bilancio Bilancio positivo Perché abbiamo Una base Di squadra Buona Con giocatori Molto applicati Giocatori seri Il gruppo È cresciuto Tanto Si sono conosciuti I nuovi I vecchi Si sono messi A disposizione Quindi Abbiamo creato Le basi Per poter Essere Una grande squadra Senza andare Troppo nel dettaglio Nel Amichevole di oggi La squadra Il primo tempo È parsa Un pochettino Più imballata Rispetto alla seconda Ma è chiaro Che i carichi di lavoro Sono evidentemente Molto forti Si si Ma è normale Perché mi preoccupavo Del contrario Io ho guardato Altre cose Ho guardato Un attimino Le potenzialità Dove si può arrivare Dove possiamo tirare ancora Questi ragazzi Adesso è tutto Tutto da perfezionare Però La cosa che Mi piace È che abbiamo Un bel Diciamo Masso grezzo Di squadra E bisogna Andarlo a rifinire A sistemare Diciamo Il tutto In vista del Completamento Dell'organico È una squadra Questa che ha Pochi elementi Che hanno già fatto L'A-B Soprattutto pochi Che l'hanno fatta Anche da protagonista È un aspetto Questo che la preoccupa In vista dell'impatto Con la nuova stagione E in ottica Appunto Di completamento Dell'organico No no Perché a me Mi interessano I giocatori Che hanno fame I giocatori Che lottano I giocatori Che non tirano mai Indietro il piede I giocatori Che aggrediscono I giocatori Che hanno voglia Di correre E di stupire I giocatori Diciamo Questi che ho Questa caratteristica Le hanno già tutti Quindi è chiaro Che però È un campionato Molto molto Importante È un campionato Anche molto difficile Molto lungo Molto intenso Quindi è chiaro Che abbiamo Una rosa Ancora Ristretta Bisogna ampliarla Bisogna sistemarla Nei vari reparti Ci sarà anche Magari La possibilità Di inserire Dei giocatori Ancora di più Potenzialità Quindi Si deve lavorare Sì io sono Ottimista Sono ottimista Perché ho parlato A lungo Con il presidente Campitelli Perché lo conosco Ripeto Perché ho stima Di lui Perché so Insomma Che questo territorio Questa città Questo territorio Questa provincia Questa regione Merita questa promozione E voglio dire Quello Non può Non essere così E quindi È importante La presenza Delle istituzioni Per il territorio Terramano Questo è un grande Risultato Può essere veramente Un momento Come ho già detto Tante volte Anche un momento Di rilancio Di un territorio Che soffre Questa crisi profonda E il calcio Oggi è un veicolo Importante Quindi Terramo Ha dimostrato Sul campo Di meritare La serie B E quindi Nessuno gliela Potrà togliere Per la Team Cup L'Aquila Che non ti aspetti 2-0 All'Arezzo E passa il turno I rosso-blu Si gettono alle spalle Le ombre Dagli spalti Cori contro Di Nicola E vincono con De Sousa E Sanni Allora Come promesso Andiamo a vedere Il servizio Della vittoria Dell'Aquila Sull'Arezzo Una piacevole sorpresa Di mezza estate Nell'esordio stagionale In Team Cup La nuova L'Aquila Targata Carlo Perrone Vince per 2-0 Contro l'Arezzo Alfattori E passa al secondo Turno eliminatorio Nonostante i soli Dieci giorni Di preparazione Nel ritiro Di colle Di mezzo I rosso-blu Sono apparsi In ottime condizioni fisiche Accomunati in campo Da una voglia di fare Che lascia ben sperare Per il futuro Segnali incoraggianti Soprattutto Dalla cintola in su Con De Francesco E Mancini A centrocampo Già in palla E il tridente D'alto tasso tecnico San Domenico De Sosa E Ceccarelli In formato campionato Certo Parliamo di calcio d'agosto Ma è innegabile Che la vittoria Con l'Arezzo Abbia dato Un'iniezione Di fiducia importante A tutto l'ambiente aquilano Davanti a circa 500 spettatori Sugli spalti A partire meglio Sono però i toscani Che al sesto Si rendono pericolosi Dalle parti di Zandrini Con una zuccata Di sperotto Deviate in calcio d'angolo La reazione dell'Aquila Di quelle che fanno male Al minuto 16 Cross di Di Mercurio Dalla destra Girata aerea In tuffo Della Pantera Claudio De Sousa Che bagna il suo nuovo esordio In maglia aquilana Con il primo gol stagionale Per giunta Con la fascia di capitano Al braccio Ma i domi Gli uomini di Perrone Continuano ad attaccare Al 26esimo A sfiorare il raddoppio È un bolide Terra aria Di De Francesco Che si perde Di poco alto Superata la mezz'ora Proteste vibranti Dell'Arezzo Per il fallo In era di rigore Ai danni Di Bentancur L'arbitro In prima battuta Segna il penalty Salvo poi Tornare sui suoi passi Dopo la segnalazione Del primo assistente Scampato il pericolo L'Aquila Centra il colpo Del K.O. Al minuto 39 La pennellata È di Ceccarelli Che pesca La testa Del nuovo arrivato Adedoin Sanni Che infila il pallone Alle spalle di Baiocco Grande gioia Per l'Arcinio Difensore di colore Di origini nigeriane Che festeggia La sua prima marcatura Il rosso-blu Nella ripresa Cale il ritmo Ma il copione È già scritto L'Arezzo Tenta senza fortuna Di rientrare in partita L'Aquila Tiene botta E spreca Diverse chance In contropiede A fine partita È raggiante in volto Il tecnico aquilano Carlo Perrone Perrone forse Non si poteva chiedere di più In questo esordio Una piacevole sorpresa D'agosto Eh sì Siamo tutti Veramente contenti Perché comunque È venuto un risultato Una vittoria Una vittoria Importante Penso anche Meritata Anche se comunque È calcio d'agosto Però a partire Col piede giusto È un'iniezione di fiducia Per tutti Per la società In primis Per l'ambiente Che magari può pensare Che è un cambio Di strategia Rispetto agli anni passati Non Non debba per forza Portare a delusioni Anzi Magari ci possono essere Delle soddisfazioni Quello che mi è piaciuto Ecco L'impegno La grinta La corsa Anche il coraggio Della squadra Quindi questo è quello Che questa squadra Deve avere Per rendere comunque I tifosi Aquilani Orgogliosi Di venire allo stadio Di attifarlo Ecco un'ultima battuta Sul Novara La prossima sfida Sognando un po' Uno stadio di serie B Poi ci sarebbe anche L'Udinese Eventualmente nel terzo turno Però un'aquila Che forse non vuole Smettere di sorprendere Un'aquila Che deve continuare a volare Ha cominciato A spiccare il volo Speriamo che Possa continuare a volare E tutto per questa edizione Di mattino 6 La nostra rassegna stampa Però pregna Come avete visto Di contenuti Di immagini Di interviste Vi ricordo Gli appuntamenti informativi Del TG6 Prima edizione di oggi Alle 14 La seconda Alle ore 19 Grazie a Maurizio Daguini Regia E grazie a voi Che ci avete seguito Buona giornata Grazie a tutti